Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono JD e oggi siamo tornati finalmente sulla... sulla... Sky Factory! 2.5 Mi, abbiamo... 45 sicmo... ah già che avevi... avevi fatto tanta roba, tanta roba, poof! Allora, siamo con Ayer Davide, ci faccio un salutone. Ciao! Ciao! Comunque, vabbè, sta serie tipo non esce da tantissimo tempo perché... non abbiamo la possibilità di registrare. Sì, eh, purtroppo, tanto capita, porca miseria. Ah, ma tanto, ma non ci serve, ci abbiamo preso tanto legno. Vabbè, ma ci servono gli alberelli per fare il legno. Ci vuole fuoco! Che stupido, stavo facendo... stavo cliccando un altro tasto. Eh, vedi che sti modbole stanno già spawnando qua, eh? Quindi io direi di iniziare già ora. Ma stanno già spawnando? Sì, sì. Ah, ah. C'hai del legno? Yes, ce l'ho detto. Io sono tipo 30... 32 di così... grezzi, quindi. Allora. Andiamo facendo così? Che poi qua... Madonna, se casco, se casco... Ah già, no, no, tanto non... Ci sta? Aspetta un attimo. Fallo, fallo, veloce, veloce, veloce. Ah, sì, 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 c'è. Ah, non ho permesso, mi ha deoppato il servicoso. Ah, madonna che ansia, credevo fosse scomparsa. Stavo per morire dentro tantissimo. Il cavallo, il ballo del cavallo è facile. Dimmi che la... No, quello lì è il catalì cammello. Colore caramello ed è naturalmente amico della gente. Facciamo... Ma a me, parlo del cavallo. Schifosa. Comunque vado un attimo a rispondere a te. Come schifoso? Ti voglio bene. Eh, schifosa. Ma off, sentilo. Schifoso sarai tu. C'ho sempre una paura di care... Ah, già, che qua lo shift non regge. Oh, che ansia ogni volta. Fai che... Niente. Madonna, stavo per buttare... Comunque allora spieghiamo un attimo come va fatta. Sì, lo sto spiegando, allora. Ecco, tac, tac, tac. Ok. La vera milanese che non è? Adesso ti spiego anche a te. Io non sono milanese. Lo sono fatto e detto che non è. Che non sono. Bravo, bravo, bravo. Adesso guarda, guarda attentamente cosa sto facendo. Guardiamo, guardiamo. Madonna, ma che pa... L'ansia che mi prende. Comunque la Sky Factory è la mia serie preferita da portare perché è bellissima da giocare. E anche perché la gioco con Giorgia. Eh, bravo, sarà meglio. Sarà meglio perché sennò ti spezzo tutte le ossicine. In questo momento ho paura. Mi raccomando, ricordalo. Eh, eh, fai bene, mamma. Allora. No, ho bisogno di... Don't worry. Ah, in accetta. Sì. Però non l'accetto. Madonna, che bocchino di merda, lasciatelo dire. Porca miseria. Ah, ma aspetta, ma l'accetta qual è? Axe. Ah, l'ascia. È l'accetta. Come lo vuoi chiamare? Come lo vuoi chiamare? Come lo vuoi chiamare? Come lo vuoi chiamare se si è moruti? Dai. 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 Devi lanciarmela. Certo che se parli con la bocca piena come credi che io ti capisca, eh? Non ti capirò mai. Che verso hai fatto? Ti capisciarmela. Ti capisciarmela. Ti capisciarmela. Mercoledì. Mercoledì? Guarda che ho... Ah, sì, è vero. Toh! Toh! Tieni, tieni tantissimo! Tieni! Non si fanno, non si fanno queste cose, non si fanno. Ma tu cosa stai mangiando esattamente? Che io c'ho tanta carne. Il biscotti di mia carne. Anch'io ho fatto i biscotti, sono molto buoni. Sì, ma a me sono vulnerabile di te perché mia madre non sa cucinare. Ah, no, io li ho cucinati io perché sono una brava. Forse sono bravo a cucinare biscotti e roba così. Però... Mi scozzo. Mi scozzo, mi scozzo. Ho, 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 ho sette di estate. Ho bisogno di andare a prendere estate. Eh? Sì, un pochino, grazie. Bevi che te è sant'anna. 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 Bevilò perché... Ora inviatele i soldi. Magari. Verrissima. Eh... Io le vedevo già... Ah, no, basta F3. Eh... E' stronza. Poi vai su liked. Su che? Liked. Luce. Eh... Eh? Niente. Come, come faccio? Spiegamelo. Niente, non fa niente, non fa niente. Diciamo che è buio. No, fì. Perché tipo qua non... Qui non dovrebbero spawnare i mostri. E quindi siamo... Ok. E siamo... Il singhiosso bellissimo. Eh, da matti. Permettiamo pure lo spawn... Eh... Dei... Dei Enderman. Ma... No. Oddio no, si è cancellato tutto l'inventario. Non ti credo, lo sai benissimo. Non l'hai detto con abbastanza enfasi, quindi non ti avrei mai creduto. E va bene. Eh, eh, non mi freghi. Ehm... Perché qua abbiamo... Ah, sì, così che possiamo passare. Ok, sì. Guarda la luce se va bene. Aspetta. F3. Eh, CE multiple. Eh, X, Y, 15, 1. Eh... Forse... Forse F7. È F7. Sono un genio. È F7. Vedi? Qui possono... Possono spawnare. Vabbè, allora possiamo pure testarla. Ci dobbiamo solamente un pochetto allontanare. Hm. Eh... Villager. Ma che poi io, cioè, non vorrò mai fare una farm di villager, perché è una cosa impossibile da creare. Non potevano mettere tipo una banana per i villager femmina? No, bene. Che ssh. Sei un cretio senza senso. Ho 29 alberi. Oh, è già spawnato, è già spawnato, è già spawnato. Aspetta, arrivo, arrivo, voglio ucciderlo. Cazzo, cazzo, ma sopra possono spawnare. Ops. Non hai messo le slab. Sì, che le ho messe. Dai, sali sopra e metti tutti gli slab. Voi là, vedete la mia farm? Quanto è bella. Eh? 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 Mi ha spawnato una, una testa di zombie. Sono bellissima, c'è pure il zuffo. Perché c'hai la skin bugata? Perché c'è il zuffo. No, c'è il zuffo. Non sapevi, c'è, c'è la parte. Perché? Ma te un attimo, te un attimo vedi una cosa? Eh, a te rimarranno le cose. Eh, vuoi un attimo provarla. Girati. Ti rimangono le cose. No, sono i più swag del mondo. Eh, fai, fai provo a fare un albero di mele. Eh, questo è un albero di mele. Si può fare l'albero di mele. Basta che metti un sapling con una mela. Un sapling? Con una mela. Dammi un sapling. Eh, qua? Un alberello. Dammi un alberello. Tac, 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 tac. Adesso appena cresce. Appena cresce, ossia. Tira le mele. Ressi, 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 ressi. Non mi si. Non mi buco dentro. Adesso aspettiamo e che crescano le mele. Sembra tipo un gatto. Madonna, ci sono spaventi. Che vabbè. Quello vabbè. Ryan de All Might. Aspetta, sono quelli fortissimi. Lei già ha ucciso. Ti odio. Ti odio tantissimo. Perché? Perché l'hai ucciso. Mi ha dato una pancetta. Buonissima la pancetta. Vedi come si fa? Palle, non andano mai un cazzo. Ma dai! Quindi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi. E noi ci rivediamo qui, sempre sullo Sky Factory, in un'altra puntata con Davide. Ciao! Non mi sono scusa.